Buonasera a tutti. Riprendiamo il nostro tradizionale appuntamento con Seguendo le Tracce degli Antichi. Quest'anno l'iniziativa voleva soffermarsi in particolare su un argomento specifico che sono i gioielli. Quindi con l'appuntamento di oggi e con quello successivo di sabato prossimo si affronteranno i gioielli in varie civiltà. In particolar modo questa sera per quanto riguarda la civiltà egizia. Non rubo ulteriore spazio e lascio la parola a dottoressa Zalfornini. Quest'oggi vorrei parlarvi dei gioielli egizi, quindi vedere un pochettino come era trattato questo materiale, in particolare loro, dagli egizi e cosa veniva realizzato. Qui tra l'altro partiamo con un'immagine abbastanza comune, quella dello scarabeo, che troveremo in molti pettorali, che è un simbolo di rinascita, perché è il dio chepre, il dio del sole al mattino. Quindi è molto utilizzato nei collari, specialmente quelli funerari, in quanto permette appunto la rinascita al defunto. E regge con le zampe il disco del sole, che è una pietra pregiata, probabilmente una cornalina. E poi come potete vedere abbiamo già l'uso del turchese e del lapislazzoli, che vedremo sono tra le pietre più comuni nell'oreficeria egizia. Innanzitutto dobbiamo vedere l'origine di questi materiali. Per quanto riguarda l'oro, l'Egitto era molto ricco di miniere d'oro, questo probabilmente molti di voi lo sanno, l'argento per questo era più prezioso. Infatti si diceva che la parola tesoro era proprio la casa dell'argento. Qua potete vedere un papiro, che è il cosiddetto papiro delle miniere, che è conservato al Museo Egizio di Torino, dove io faccio una guida. E potete appunto vedere che anche se è molto frammentario, ci ha dato un'idea di quella che era la distribuzione delle miniere nell'Owa di Amamat, che è una regione appunto desertica. E qua potete vedere anche a fianco un'altra cartina, dove abbiamo la presenza di quelle che sono zone di miniere d'oro, specialmente nel sud dell'Egitto, ma come vedremo anche nel deserto orientale. E sicuramente però un'altra regione importantissima per quanto riguarda l'oro era la Nubia, quello che corrisponde più o meno all'attuale Sudan di oggi, il cui nome appunto deriva da Nub, che significa appunto oro. E come potete vedere qua abbiamo due pitture, che vengono da alcune tombe, in cui sono raffigurati proprio dei Nubiani, che portano offerte d'oro. In particolare una cosa a cui dovremmo un po' abituarci trattando dell'oro in Egitto, è che i lingotti erano in realtà fatti ad anello. Quindi si vedono questi vassoi, potremmo dire, carichi di queste specie di, sembrano braccialetti quasi, però sono appunto dei lingotti d'oro. E tipici appunto per quanto riguarda i tributi che venivano dalla Nubia, sono proprio appunto questi carichi di oro che arrivavano appunto da questa regione. Qua abbiamo un disegno che raffigura invece una officina dove si lavorava appunto l'oro. Abbiamo diverse rappresentazioni in tombe private. Una cosa particolare che si può intravedere, anche se purtroppo l'immagine non è di qualità proprio eccelsa, è che nella parte inferiore sembra che ci stiano lavorando due Nani. Quindi non sappiamo con esattezza perché venissero utilizzati in questo tipo di lavoro. Qualcuno ha suggerito anche ipotesi un po' strane del tipo che era più difficile che fuggissero con questo bene. Però appunto in diverse tombe si possono trovare appunto dei lavoratori che sono presentati proprio con queste caratteristiche. Si può vedere ad esempio la bilancia, due piatti dove viene ad essere misurato l'oro, c'è uno scriba che sta prendendo nota e si vede anche il crogiolo dove stanno soffiando vari operai per fondere appunto il metallo. Poi si possono vedere la fabbricazione di diversi oggetti, in particolare di collane, quello che sono appunto i collari usec, cioè questi larghi collie che si portavano molto spesso, o altri tipi appunto di collane. E per quanto riguarda l'oro ha un valore simbolico, proprio perché la carne degli dèi è simbolo di immortalità. Si dice che gli dèi hanno la carne d'oro e le ossa d'argento, quindi è abbastanza importante il valore che vedremo anche in ambito funerario. E i vicini dei faraoni erano abbastanza al corrente di questo, tanto che un re appunto proveniente dal vicino oriente scrive a un faraone verso il 1350 per chiedere appunto quest'oro, in Egitto l'oro pure come la polvere delle strade. Quindi, anche se ovviamente è iperbolico, è comunque significativo che ci sia questo tipo di testimonianza. Tra l'altro, molto spesso ci sono altre lettere in cui i re chiedono più oro, proprio perché sanno che è un bene facile da trovarsi in Egitto e relativamente, diciamo, poco costoso per gli egiziani stessi. Qua abbiamo anche un'immagine che è il rilievo da cui è tratto il disegno che abbiamo visto prima in cui si può vedere appunto due operai che stanno realizzando questo collare che è appunto questo collare che abbiamo visto prima, con queste appunto file di perle che di solito erano realizzate con materiali pregiati come appunto la cornalina, il turchese, il lapislazzoli, oltre appunto all'oro. E per quanto riguarda il geroglifico che esprime la parola nub, di solito si pensa che sia un bacille in cui si fa fondare l'oro. Ci sono delle ipotesi più recenti rispetto a quelle che aveva fatto Gardiner all'inizio degli anni venti, per cui il geroglifico rappresenterebbe in realtà un collare come quelli che abbiamo visto prima. Non è chiarissimo quello che appunto può rappresentare. Come dicevamo prima, le miniere si trovavano nella zona nord dell'attuale Sudan e nel sud-est egiziano, fra lo Wadi Hammamat e lo Wadi Abad. Esistono più di 250 siti per l'estrazione dell'oro, alcuni ancora utilizzati adesso e l'oro si trovava in filoni di quarzo bianco nei punti d'incontro appunto tra la grovacca e il granito che sono rocce che venivano utilizzate ugualmente dagli egizi per realizzare statue, sarcofagi eccetera. Un'altra forma che probabilmente era sfruttata sia dall'epoca predinastica perché è un po' più facile da trovare era appunto quella alluvionale perché le pagliuzze che erano trasportate dal fiume venivano raccolte appunto fin dall'epoca predistorica proprio perché relativamente più facili da trovare. E le pagliuzze venivano separate come fanno ancora oggi i cercatori d'oro, diciamo così, della Domenica con dei sitaggi oppure con delle tavole di lavaggio che probabilmente in Egitto erano realizzate appunto in pietra. si utilizza la tecnica della flottazione per cui l'oro essendo più pesante rimane sul fondo del setaccio della tavola mentre i detriti e la sabbia vanno appunto giù. E per quanto riguarda il personale che lavorava in queste miniere c'era tutta un'organizzazione molto particolare perché c'erano innanzitutto coloro che cercavano siti minerari e spesso queste persone avevano poi dei riconoscimenti anche dal sovrano per aver individuato delle miniere ricche di materiale prezioso. I minatori che di solito però erano condannati, appunto criminali condannati o prigionieri di guerra perché le condizioni di vita erano molto molto dure come sappiamo e poi c'erano i commercianti di materiali preziosi che venivano chiamati sementi o gli uomini con la borsa. Infatti sono raffigurati come uomini che reggono un bastone con una piccola borsa attaccata che conteneva appunto polvere d'oro o di pietre preziose. E una volta che il filone veniva individuato si metteva in macchina tutta appunto la serie di professionalità coinvolte dai minatori ai fabbri ai fonditori, i soldati che assicuravano comunque l'ordine e gli iscrivi anche perché comunque lo sfruttamento delle risorse preziose avveniva sempre sotto il controllo reale. Qua possiamo vedere alcuni gioielli, in particolare possiamo notare che in molti casi non è facilissimo vedere la provenienza perché molte tombe reali sono state saccheggiate e se non c'è il nome del sovrano o della sovrana è un po' difficile individuare il nome così anche per le tombe di privati. Molti oggetti sono trovati sul mercato antiquario però non sempre appunto è facile trovare appunto una provenienza. Qua si può vedere appunto una custodia probabilmente per un amuleto a forma di Ankh il segno che significa vivere o vita e che è simbolo appunto di vita eterna in cui compare anche lo scarabeo che abbiamo già incontrato prima uno specchio in argento, gli specchi più economici erano fatti in bronzo però i più pregiati potevano essere anche in oro in argento il manico in oro è una testa di Hathor che è una divinità molto appunto importante che protegge appunto anche la bellezza, la danza, la musica, gli aspetti piacevoli poi qua su questo dischetto potete vedere il geroglifico dell'oro appunto quello che alcuni interpretano come una collana con appunto le due stringhe per legarla e più tradizionalmente invece quello che viene considerato il bacile per fondere l'oro con il segno di appunto Nefer che significa appunto buono, bello e l'oro appunto di qualità più pregiata veniva chiamato appunto Nefer poi abbiamo un collier che potete vedere appunto in basso alla mia sinistra e poi una lamina d'oro vedremo che gli egizi erano molto abili nella lavorazione dell'oro con amuleto funerario che probabilmente veniva attaccato alla mumia ci sono quattro forellini con i quattro dei figli di Horus che proteggono questi organi e l'occhio di Horus che è un altro amuleto che garantisce l'integrità del corpo l'occhio che rimane ad Horus dopo aver combattuto contro lo zio Set e poi abbiamo una collana e degli orecchini che potete vedere appunto qui gli orecchini come vedremo erano spesso abbastanza impegnativi e venivano portati da uomini e da donne i gioielli infatti sono qualcosa che riguarda soprattutto ovviamente il sovrano le sue mogli ma anche i nobili coloro che possono permetterselo e sia uomini che donne utilizzavano basta diciamo così qualità di gioielli dagli orecchini alle collane agli anelli ai bracciali ai bracciali per le braccia cavigliere cinture e così via qua potete vedere anche un braccialetto in alto alla mia sinistra molto bello con dei cavalli probabilmente questo è dell'epoca di Ramesse II e mostra appunto la ricchezza che poteva essere sfoggiata dai sovrani o dai nobili da chi insomma poteva permetterselo poi abbiamo un collare con varie figure di divinità in pietre colorate altri orecchini in oro un po' diversi un anello appunto in cui compare una figura di faraone che tiene appunto un'immagine di divinità e poi probabilmente quello che poteva essere una plique per decorare magari un cofanetto a forma di palmetta e un altro elemento probabilmente di collana che ha forma di testa di ariete che troveremo poi anche nelle immagini di Mero e appunto del regno Meroita molto comune era appunto l'uso di pendenti fatti a forma di mosca o ape secondo alcune interpretazioni come potete vedere qua i colli potevano essere abbastanza impegnativi come potete vedere qua poi abbiamo sempre dei bracciali che assomigliano fra l'altro a quelli che sono i lingotti e un altro elemento decorativo fatto a conchiglia probabilmente di decorazione appunto di un cofanetto o di un altro oggetto poi tra le immagini dei colliepo troviamo spesso appunto le ali aperte della Dea Iside o del falco di Horus che erano spesso utilizzati in ambito funerario qua possiamo vedere anche un altro pettorale piuttosto complesso con le Dea Necbet e Wadget le Dea a forma appunto di avvoltoio e di cobra che proteggono la parte nord del paese ma anche il faraone infatti qua compare poi anche un cartiglio e ai lati delle ali ci sono due oggetti che sono chiamati pilastri GED che sono appunto la colonna vertebrale di Osiride probabilmente sono un simbolo di protezione un anello sempre appunto del tipo forse a sigillo e poi ho voluto introdurre qua perché sono diciamo oggetti che vedo quasi tutti i giorni la maschera funeraria di Merit per chi ha visitato il museo egizio e magari per chi no ricordo che noi possediamo questa tomba che apparteneva a un architetto di nome K la moglie Merit aperta da Ernesto Schiaparelli e risale appunto all'incirca il 1400 avanti Cristo e ci sono diversi oggetti in lamina d'oro in particolare abbiamo la maschera funeraria di Merit con le sopracciglia il bordo degli occhi e le righe della parrucca che sembrano realizzate in turchese o in lapislazuli ma in realtà è fa yans cioè una pasta di vetro che appunto imitava il colore del turchese o dell'apislazuli perché erano pietre molto pregiate qua potete vedere le radiografie di K e di Merit in cui si possono vedere i gioielli che avevano addosso e hanno ancora oggi addosso perché le mumie non sono ancora state sbendate come vedete abbiamo questa ricca collana gli orecchini anche per K per il marito un bracciale per il braccio uno scarabeo quindi un simbolo di rinascita e poi purtroppo qua non si vedono la moglie porta anch'essa collane orecchini anelli e una cintura per quanto riguarda poi i corredi funerari dei sovrani la maschera di Tutankhamon e tutta la tomba di Tutankhamon è famosissima però c'erano anche altri re che avevano ad esempio maschere funerarie in oro come a Menemope e Repsausenne qua siamo un pochino più tardi rispetto a Tutankhamon e qua non volevo trascurare anche se è molto famoso la tomba di Tutankhamon pensiamo che solo il sarcofago interno è fatto con 110 kg d'oro massiccio quindi una quantità d'oro sicuramente impressionante qua possiamo vedere un bracciale a forma di scarabeo un altro appunto con delle pietre colorate il pettorale nella forma appunto di orus come falco con le ali spalancate il disco solare sul capo un bellissimo elemento di pettorale con l'occhio ujat l'occhio sano degli orus lo scarabeo e i fiori di loto quindi tutti i simboli di protezione per il defunto e poi appunto anche dei bracciali che facevano parte sempre di questo corredo qua potete vedere la famosissima maschera realizzata appunto in turchese lapislazzoli pietre pregiate e le due divinità nekbet e wajet questo è una cosa che di solito si trova un pochettino o meno di solito avete solo il cobra il cosiddetto ureo qua invece potete vedere anche l'avvoltoio anche la dea nekbet abbiamo poi dei collie sia con la testa di orus sia appunto sempre con l'immagine di orus con le ali aperte realizzate appunto in cornalina turchese e lapislazzoli qua potete vedere altri oggetti della tomba di tutankhamon un pettorale a forma di avvoltoio che appunto può essere la dea nekbet ma legato anche a iside la sedia dove compare appunto il sovrano con la moglie quindi tra l'altro di lei abbiamo parlato in un'altra conferenza il sarcofago appunto interno poi sono state ritrovate parecchie lamine d'oro come quella che vedete in basso alla mia sinistra dove il re compare con la moglie in particolare qui sono raffigurati in una scena abbastanza intima dove tutankhamon è seduto e la moglie appunto è accanto a lui e poi l'altra immagine in cui si vede la dea selket che è questa dea con uno scorpione in testa che custodisce una di quelle che sono le scatole dove venivano ad essere posti i vasi canopi è una delle divinità che proteggono appunto i quattro vasi dove si mettono fegato, stomaco intestino e polmoni qua abbiamo un'altra di queste lamina dove abbiamo la moglie del re che gli offre dei fiori di loto un bracciale in cui compare la dea Iside e poi appunto abbiamo quello che forse è una specie di ventaglio dove il re era figurato a caccia dove si può vedere appunto il suo carro e poi erano molto famosi i sandali sempre in oro e i copridita che potete vedere qua a volte le punte delle dita delle mumie potevano essere ricoperti da queste lamine in oro e poi a fianco avete sempre un'altra lamina della serie che è stata ritrovata un po' più tardi intorno al decimo secolo in lapislazuli e oro abbiamo la cosiddetta triade di Osorcon II dove potete vedere il centro di Osiride con il figlio Orus e la moglie Iside e appunto questo è un altro pezzo di gioielleria abbastanza conosciuto l'argento invece era chiamato Edge in origine proveniva dall'Aureon e dalla Cicladi quindi dalla Grecia dal secondo millennio lo citano invece come proveniente anche da Libia e vicino Oriente però sappiamo anche che dovevano esserci degli addetti a queste miniere esattamente come per loro grazie ad alcuni graffiti che sono stati appunto ritrovati nei pressi di queste miniere e qua potete vedere appunto alcuni lingotti di argento siriano qua potete vedere un vaso che in realtà è realizzato anche con alcune parti in oro il manico è questa antilope abbiamo una barca con i rematori tipica del Medio Regno intorno al 2000-1800 avanti Cristo e una corona con doppio ureo quindi con doppio cobra sempre in argento in particolare è stata ritrovata nella località egiziana di Tod una serie di vasi in argento che costituiscono uno dei più importanti ritrovamenti di questo tipo fatti appunto in Egitto mentre il sarcofago di Tutankhamon è famosissimo quello di Pseusen è un po' meno però è un sarcofago realizzato completamente in argento che all'epoca dovette essere anche più caro rispetto a quello di Tutankhamon proprio perché l'argento come dicevamo era un po' più raro rispetto a loro e qua possiamo vedere appunto gli artigiani al lavoro questo è il rilievo da cui è tratto il disegno che abbiamo visto all'inizio e qua appunto possiamo vedere le varie fasi di lavorazione come abbiamo già avuto modo di vedere e da altre tombe abbiamo raffigurazioni invece pittoriche quelle che abbiamo visto prima erano a rilievo qua si può vedere un artigiano che sta soffiando appunto nel mantice per fondere l'oro in basso abbiamo un artigiano che sta infilando delle collane e si vede un collier proprio già pronto accanto mentre il personaggio seduto accanto a lui è intento a utilizzare una specie di trapano che proprio funzionava ad archetto mentre nell'altra immagine si può vedere la produzione anche qui di oggetti in oro ci sono artigiani intenti a varie attività in particolare abbiamo la pesatura dell'oro la fabbricazione di amuleti di collane e quindi si possono vedere anche i prodotti appesi alle pareti che sembrano un po' sospesi nell'aria ma era il modo di rappresentare appunto l'epoca in Egitto sanno significare che sono messi appunto su scaffali o appesi a chiodi qua possiamo vedere anche altre fasi sempre della lavorazione dell'oro in cui troviamo i fonditori in cui abbiamo i personaggi con la bilancia abbiamo gli iscrivi abbiamo quelli che fanno la flottazione dell'oro tra l'altro spesso abbiamo dei fumetti che ci spiegano un po' quello che sta capitando in alcuni casi ci sono scene anche abbastanza vivaci perché ad esempio in uno dei rilievi che vi ho fatto vedere in precedenza un operaio dice all'altro di sbrigarsi quindi sono anche appunto abbastanza indicativi di quello che doveva essere il lavoro quotidiano qua potete vedere appunto un peso a forma di testa di toro con i lingotti sempre di forma rotonda che dicevamo prima la pesatura dell'oro come potete vedere anche in queste immagini con i lingotti sempre fatti a forma di braccialetto possiamo dire un sigillo e poi alcuni pesi fatti a forma di animali come quello che potete vedere nella prima immagine in alto a sinistra con la figura appunto del toro e le tecniche variano perché gli egizi conoscevano sia la fusione in stampi la cesellatura la doratura con foglia d'oro il quasonnet la filigrana e la granulazione come potete vedere appunto realizzavano oggetti di grande raffinatezza come potete osservare nei tre esempi che vi ho dato qui e anche in quelli che potete osservare qua la foglia d'oro era una tra le più utilizzate molti sarcofagi non erano in oro massiccio giustamente perché i padroni non erano dei sovrani però molto spesso vediamo che il sarcofago era ricoperto da una lamina d'oro a volte molto sottile ma comunque diciamo così oro puro e con la cesellatura si realizzavano vari oggetti come ad esempio questa ciotola con gli stampi ad esempio si potevano fare degli anelli a sigillo qua potete vedere dei crogioli degli stampi delle pinzette che tra l'altro appunto sono state ritrovate e che sono molto simili alla scena che vedete qua in basso di lavorazione sempre dell'oro qua per quanto riguarda poi il discorso dell'oroficeria tolemaica potrebbe essere molto lungo però qui volevo dare solo alcuni esempi ovviamente con l'arrivo dei tolomei abbiamo l'influenza anche greca in quelli che sono i gioielli che vengono fabbricati e qua potete vedere alcune parurra ci sono i tipici bracciali a serpente che sono anche un po' nell'immaginazione di tutti quando si parla di Egitto i cammei qua potete vedere degli orecchini adornati appunto con delle figure alate probabilmente degli eroti o delle vittorie che mostrano la mescolanza di stili quello egiziano tradizionale e quello invece di importazione greca che arriva con i tolomei e qua potete vedere sempre i bracciali a forma di serpente l'uso tra l'altro delle perle che prima non era fatto perché appunto non arrivavano ancora in Egitto una diciamo retina per una crocchia decorata con una figura femminile molto bella e il nodo di Ercole che si trova appunto nell'oggetto che potete vedere in basso alla mia sinistra pure abbiamo figure di eroti figure femminili come afrodite che possono far parte di orecchini e di anelli e poi il classico bracciale a serpente che appunto abbiamo già citato prima e per quanto riguarda invece Meroe questo regno appunto che conquisterà poi anche l'Egitto con i faroni della venticinquesima dinastia qua potete vedere appunto quello che era la zona di Meroe Napata un'altra città importante e qui le tipiche piramidi che sono appunto tipiche di questa zona era una zona ricchissima di miniere d'oro tra l'altro sull'oro di Meroe è stata fatta una mostra al museo egizio di Torino ormai quasi trent'anni fa però mostrano una grandissima ricchezza come potete vedere da questi pendagli che raffigurano spesso una testa di ariete perché il dio Amon era veneratissimo in queste zone come potete vedere nelle due figure a destra e a sinistra a volte in oro vengono realizzati anche dei motivi a conchiglia cosiddetti cauri che potete vedere qua qui abbiamo appunto un bracciale fatto con i segni anche che significano vivere o vita e un bracciale un po' simile a quello che abbiamo visto anche prima con l'immagine della Dea Iside e qua potete vedere anche gli orecchini e la complessità qui abbiamo due teste di Hathor che fanno parte dell'orecchino motivi appunto a filigrana e per concludere vorrei mostrare alcuni esempi di gioielli egizi ma moderni perché la scoperta della tomba di Tancamon portò una grandissima voglia di Egitto e quindi vediamo che alcuni gioiellieri dell'epoca appunto del cosiddetto periodo Arnavaux imitavano lo scarabeo il segno Anca altre immagini appunto dell'Egitto per vendere appunto i loro gioielli tra cui anche Cartier quindi anche opere abbastanza importanti qua potete vedere ad esempio tre interpretazioni dello scarabeo ovviamente si utilizzavano anche pietre che gli egizi non conoscevano come appunto zafiri oppure diamanti e altre pietre che appunto all'epoca non erano conosciute ma che avevano colori come ad esempio il blu o il verde che potevano richiamare l'Egitto e qua potete osservare proprio alcuni di questi gioielli anelli spille con il motivo del fiore di loto un collare che riprende quegli egizi con la maschera di Tutankhamon immagini di divinità sedute e poi alcuni modelli appunto di Cartier sono tra l'altro abbastanza simili a quelli che erano gli originali come ad esempio queste immagini della Dea Sekhmet o lo scarabeo questi sono un pochino più semplici forse ma comunque erano molto costosi anche all'epoca per la preziosità dei materiali qua abbiamo il diamante che non era conosciuto in Egitto però riprende proprio quella che era un po' la forma del ventaglio che abbiamo visto ad esempio nella tomba di Tutankhamo e qua anche alcuni altri esempi in cui compaiono sempre altre pietre preziose come ad esempio il rubino che ugualmente non erano conosciuti in Egitto ma che riprendono comunque il colore rosso della cornalina con questo io vi ringrazio non erano non erano ma che riprendono